Buongiorno a tutti, mentre vedo che i partecipanti stanno entrando in aula, vi comincio a dare il benvenuto, vi chiedo intanto di darmi una conferma che mi sentiate e mi vediate correttamente in chat, perfetto, allora benvenuti al quinto appuntamento del ciclo di webinar organizzati dall'azione 1-3 del progetto riformativa che come sapete è finalizzata a rafforzare le competenze nell'utilizzo dei social da parte delle pubbliche amministrazioni. Nel webinar di oggi parleremo di Instagram, ne parleremo con Andrea Marrucci, esperto di comunicazione social e vice direttore dell'attestata cittadini di Twitter e vi ricordo che durante il webinar potrete porre le vostre domande al docente che risponderà alla fine della sessione, qualora non riuscissi ad evadere tutte le vostre domande potrete trovare le risposte all'interno dell'area di lavoro social media sul network OT11 o OT2. Sulla pagina di eventi IPA da cui vi siete iscritti, troverete sia le istruzioni per iscrivervi se non lo avete già fatto all'area di lavoro comune, ma anche le slide che userà il relatore e la registrazione integrale dell'intero webinar, quindi qualche altro secondo per dare modo a tutti i partecipanti di entrare e passo la parola ad Andrea Marrucci. Buon webinar! Buongiorno a tutti, grazie Roberta. Allora, io aspetto altri due minuti e poi commentiamo nel vivo del webinar. Oggi parleremo di Instagram e dell'utilizzo che ne può fare una più pubblica amministrazione. Cercheremo soprattutto di andare a vedere le tante funzionalità di questa piattaforma che non è più soltanto un social dedicato a pubblicare delle foto, ma che ha numerose funzionalità che possono migliorare e rendere più efficace la comunicazione anche di una pubblica amministrazione, non soltanto magari di un brand di moda o food. Allora, io... quindi ecco, parleremo di una narrazione per immagini, perché Instagram è questo, usa il linguaggio delle foto per raccontare ciò che facciamo. È una piattaforma che nasce nel nel 2010, perché? Perché arriva l'intuizione sull'utilizzo delle foto. Nel frattempo, diciamo, in quegli anni l'utilizzo dello smartphone è notevolmente cresciuto e la fotografia, che prima in qualche modo era un'attività che richiedeva una macchina fotografica, ma non soltanto era un utilizzo che potevamo fare il saltuario, diventa quotidiano, un utilizzo quotidiano per tutti noi. Per chi, come me, ha già superato i 40, si ricorderà che un tempo fare una foto al... non sia al pranzo, anche al pranzo di Natale richiedeva magari una preparazione, un minimo di... come dire, mettiamoci tutti insieme. Con l'arrivo dello smartphone tutti iniziamo a fare foto di tutto ciò che facciamo. E grazie ad Instagram, non solo Instagram, ma diciamo Instagram poi è quella che ha avuto più successo, iniziamo anche a pubblicare, a far vedere attraverso le immagini che cosa stiamo facendo. All'inizio Instagram è una... tra l'altro funziona soltanto per... con l'iPhone. Nel 2012 si apre anche il sistema operativo Android e entra nell'orbita di Facebook. Viene infatti acquistata per un miliardo di dollari. È, diciamo, una delle prime importanti acquisizioni fatte da Zuckerberg per allargare la sua presenza social. Cosa succede a questo punto? Cioè che fino al... al 2012 Instagram comunque è una... una app che è molto legata alle immagini. Con l'acquisizione da parte di Facebook, diciamo, questa applicazione si socializza, diventa sempre meno un contenitore per le foto, ma sempre più un social. Non a caso tra, diciamo, i social più diffusi, Instagram è l'unica che nasce proprio sul telefono. È un'applicazione che... è un social, diciamo, che vive con lo smartphone, a differenza magari di Facebook o di Twitter. Quindi cosa succede? Dal, diciamo, 2012 al 2016 viene, diciamo, consolidata la presenza di Instagram e poi parte quella che si può chiamare la Facebookizzazione di questa piattaforma. Perché? Perché inizia a diventare sempre più un social network. Arrivano, diciamo, intorno al 2016 i profili anche aziendali, si può iniziare a fare attività di sponsorizzazione e nascono anche le stories. Sono un contenuto a scomparsa fatto di take, di immagini e video, che hanno una grande presa sui più giovani. Perché allora, diciamo, sì, c'è una... l'applicazione che le aveva lanciate, la piattaforma le aveva lanciate, era Snapchat, che aveva... stava avendo un grosso successo negli Stati Uniti. Allora, che cosa fa Facebook? Praticamente, mutua quest'idea, la porta su Instagram per, come dire, accrescere ancora di più la presa, soprattutto sul pubblico più giovane. Con Instagram nasce anche una... diciamo, si consolida una figura professionale, ad esempio l'influencer, che è colui che attraverso questo social dà indicazioni al suo pubblico su come vestirsi, cosa mangiare, cosa acquistare. Ecco, se ci pensiamo, Instagram negli ultimi anni è stata forse una delle apprezzazioni dei social, diciamo, che più è intervenuta proprio sullo stile di vita di tutti noi. Ha cambiato notevolmente il modo, non soltanto di esprimersi, perché se pensiamo a non troppi anni fa, a 4-5 anni fa, a pensare magari a una pubblica amministrazione che utilizzava Instagram e le stories per comunicare, sembrava il viaggio dell'enterprise, ad oggi esempi non mancano, anzi, diciamo che ormai Instagram è uno di quei social di cui non si può fare a meno. E questa evoluzione di Instagram continua ad andare avanti, diciamo sì, ho diviso dal 2018 al 2020 con il teore di innovazioni, alcune arrivate proprio negli ultimi mesi, dai Reels che sono dei piccoli video di 15-30 secondi accompagnati da una base musicale, alla nascita del profilo creator, che è un profilo Facebook per influencer. Insomma, quella che era inizialmente un'applicazione dove si pubblicavano belle foto soprattutto, è diventata sempre più un social come tutti gli altri, che ha comunque tenuto come peculiarità l'immagine come, diciamo, cardine del linguaggio e della comunicazione. Diamo anche un po' di numeri su Instagram per vedere, diciamo, se davvero ha il successo che dicevo poco fa. Questi sono dati di Comcorra Agency a ottobre 2020, un'agenzia americana che analizza, diciamo, i risultati dei vari social network. Allora, nel mondo sono circa un miliardo gli utenti attivi al mese, 500 milioni quelli attivi ogni giorno su Instagram. Si calcola che ogni giorno vengono caricate circa 50 miliardi di foto. E i video sono circa 100 milioni. 6 adulti su 10 hanno un account Instagram. E se andiamo a vedere il pubblico, il 30% degli utenti ha fra i 18 e i 24 anni, il 35% tra i 25 e i 34 anni. Cosa vuol dire? Che due utenti su tre di Instagram hanno meno di 34 anni. Quindi un pubblico giovane comunque, un pubblico che è anche molto interessante per le aziende, per raggiungere, insomma, un pubblico che è più facilmente influenzabile sugli acquisti, ma è un pubblico altrettanto interessante anche per la pubblica di amministrazione che magari ha più difficoltà a raggiungere quella fascia di età. Andiamo anche a qualche curiosità su questo social network. Ad esempio, i post che hanno una geolocalizzazione, sempre secondo la ricerca di Comcoragency, ricevono il 70% in più di engagement. Le foto con viso, invece, hanno il 38% in più di like. Le foto con almeno un hashtag ottengono in media un 12,6% in più di engagement. Quindi, che cosa vuol dire? Che riuscire comunque a creare dei contenuti di qualità su questa piattaforma, come chiaramente anche sulle altre, ci mancherebbe altro, ma secondo però le regole di ingaggio di Instagram, può fare la differenza sul successo o meno della nostra comunicazione. Il cibo più fotografato, e questo può essere un orgoglio nazionale, la pizza, seguita dal sushi. Gli hashtag più popolari su Instagram sono love, instagood, photo of today, fashion e beautiful. Perché? Perché comunque è un social anche molto leggero Instagram, dove l'utente meglio tende a pubblicare quello che fa nel mio quotidianamento, cioè quindi il ciò che mangio, piuttosto i consigli di bellezza, insomma la moda, sono diciamo dai temi più, che vanno per la maggiore su Instagram. Il 60% delle persone afferma di scoprire nuovi prodotti su Instagram. Chiaramente l'analisi è fatta, la trovate tranquillamente su internet, lì vedete anche il link, è fatta per le aziende, ma il fatto di scoprire nuovi prodotti su Instagram può voler dire anche di scoprire nuovi servizi magari della mia pubblica amministrazione, attraverso una foto caricata su questo social network. Quindi diciamo che ci è senz'altro molto utile la nostra comunicazione. E vediamo durante la pandemia come è andato Instagram, perché in teoria io siccome ho un social molto legato a ciò che faccio, diciamo alla pubblicazione della scena con gli amici, piuttosto che dello shopping, come abbiamo visto poco fa, avrà in teoria, se siamo tutti in casa o meno da dire su Instagram. In realtà, diciamo sì, c'è stato un aumento della piattaforma. Come si vede a questa ricerca di marzo 2020 e comscore, Instagram è cresciuto del 16%. In generale tutte le piattaforme sono cresciute, però tra i social più diffusi, Instagram è quello che è cresciuto di più, perché se vediamo YouTube è un 3%, Facebook un 2%, Whatsapp 4%, Instagram ben il 16%, che sono diciamo dati molto interessanti, perché vuol dire che comunque il pubblico è fidelizzato, cioè anche tende a trascorrere un bel po' di tempo su questa piattaforma. Faccio vedere un altro dato da tenere a mente, poi dopo parliamo, che è TikTok, social emergente, che ha avuto quasi il 300% in più di crescita. E poi vedremo come mai parliamo di Instagram, ma stiamo attenti anche a TikTok. Come ho detto prima, chiaramente ci servono, diciamo sì, una comunicazione su Instagram, ha bisogno delle sue regole, che in parte ricalcano quelle di una presenza su tutti i social network, sugli altri social network, ma che comunque ha, diciamo sì, delle regole sue. Chiaramente Instagram è Instagram, questo deve essere ben chiaro quando, se e quando decidiamo, di avviare una presenza su questo social. Non è pensabile di prendere il post, magari pubblicato su Facebook, e pari pari metterlo su Instagram, magari con la stessa immagine utilizzata su Facebook. Perché, per prima cosa, su Instagram il testo deve essere ancora più breve che su Facebook, vanno comunque inseriti degli hashtag, che possono essere un numero molto maggiore rispetto a quelli che possiamo solo utilizzare su Facebook, e soprattutto ci serve comunque una foto che abbia una certa qualità. È inutile andare a mettere su Instagram un contenuto che, a livello di immagine, non è di qualità o non è troppo pertinente. Quindi, se vogliamo funzionare su Instagram, oltre a conoscere la piattaforma, dobbiamo preoccuparci di avere, diciamo sì, delle immagini di qualità da poter pubblicare a corredo della nostra informazione. E magari valutare se su Instagram fare lo stesso tipo di comunicazione che facciamo su altri social network. Oppure, se lo vogliamo utilizzare, per fini specifici. Magari più... diciamo, consoni a questa piattaforma. Come dicevo, il contenuto è fondamentale. Dobbiamo quindi avere delle buone immagini, sicuramente. Riuscire magari a accompagnarle da un testo che sia accattivante per un utente Instagram. Quindi, molto semplice. Cioè, la foto è il messaggio principale. Il testo, in questo caso, va a corredo. Questo, diciamo, è diverso rispetto magari ad altre social network come Facebook o Twitter, dove, diciamo, il testo ha la sua valenza. e di seguito, inseriamo, diciamo, la foto è magari il corredo al post o al tweet. Anche se, sempre più, diciamo, l'immagine, il video, sono, diciamo, i linguaggi più importanti nell'universo social. Chiaramente, come tutti gli altri social network, anche Instagram ha bisogno di un presidio. No, pensiamo che, siccome il pubblico, magari su Instagram, è più giovane, è più, diciamo, un social più leggero, dove, magari, il, come dire, il pubblico non ha, non si aspetta, cioè c'è meno polemiche rispetto a... un tempo era definito il social più gentile, Instagram. Dobbiamo, comunque, presidiarlo e pubblicare con costanza i nostri contenuti. Non è che, siccome, magari, non tutto si possiamo pubblicare su Instagram rispetto a Facebook, allora, lo, diciamo, sì, lo controllo soltanto quando capito, oppure pubblico, soltanto quando ho una foto veramente buona da pubblicare. Mi devo, comunque, fare il mio piano di pubblicazione, il mio piano editoriale, anche su Instagram, e quindi pubblicare e seguire con attenzione, anche perché la community su Instagram si sviluppa, diciamo, sì, molto meglio che su altri social network. Andrea Pavrimi chiede se è possibile vedere esempi, sì, certo, dopo, andando avanti nell'webinar, vi farò vedere anche qualche esempio di post e di account. Come tutti i social network, anche su Instagram, dobbiamo puntare a favorire le interazioni. Quindi cerchiamo sempre di corredare la nostra comunicazione con la richiesta di un'azione, una call to action che, collegata a un'immagine, solitamente ha più successo che se la inseriamo in un semplice post. Quindi riuscire a coinvolgere il nostro pubblico su Instagram può essere più semplice che su altri social network. Ma non soltanto attraverso, diciamo così, una richiesta di azioni su un singolo post, possiamo su Instagram anche trovare delle soluzioni di cogestione, di organizzare dei contest. Ci sono moltissimi esempi anche nella pubblica amministrazione. Roberto Zitarosa, mia del coinvolgimento, può venire anche chiedendo agli utenti che non dividono una storia. Ma sì, certo, possiamo sfruttare tutte le possibilità che ci offre il social, ma possiamo lanciare anche delle vere e proprie campagne. Ad esempio, andiamo alla scoperta degli angoli più belli della mia città e le foto più interessanti degli utenti saranno condivise sulla pagina dell'amministrazione. Ma ci sono stati anche, come dicevo prima, esempi dell'amministrazione che ha fatto esperimenti di cogestione. Ad esempio, attraverso le comunità degli Iger, che sono gli utenti di Instagram, sono delle comunità molto attive, che si possono sfruttare per accrescere la community di utenti e fidelizzarla attorno alla nostra presenza su Instagram. Come? Ad esempio, possiamo decidere che un paio di volte al mese l'account sarà gestito dalla comunità degli Igerz. In questo modo si coinvolgono nella gestione della nostra comunicazione e ci forniscono anche del materiale che può andare ad alimentare il nostro profilo Instagram. e consideriamo che non sempre, chiaramente varia da PA a PA, ma non sempre un'APA ha un archivio fotografico a disposizione per riuscire magari ad alimentare al meglio una presenza su Instagram. Ecco, possiamo in questo modo, coinvolgendo gli utenti, possiamo in qualche modo superare questa difficoltà. Sabrina Bellezza Fontana mi chiede, condivise come? Nel senso si invita a farti taggare se saranno pubblicate le foto più belle sulle quali si è stati taggati. Sì, esattamente, può essere tranquillamente questo un metodo. Possiamo magari non soltanto utilizzare questo metodo qui, ma anche dire che ci possono essere inviate anche in altri modi. L'importante è riuscire a raccogliere questo materiale e pubblicarlo indicando che è l'autore. Perché? Consideriamo anche che chi scatta una foto ed è appassionato di fotografia e si vede comunque riconosciuto in qualche modo il suo lavoro, senz'altro in qualche modo diventerà un utente fidelizzato. Personalmente ho avuto l'esperienza con una società aeroportuale dove, diciamo, in zona era presente un gruppo, si chiamano spotter, che sono gli appassionati di fotografia degli aerei. fanno fotografici a rintecollo, che volano, si mettono la mattina all'alba a fare le foto. Ecco, siamo riusciti a coinvolgerli nella creazione di materiale. Hanno iniziato a taggarci tutte le volte che pubblicavano una bella immagine ed è stato per questa pagina importantissimo perché avevamo un grosso materiale di grande qualità con foto molto emozionali da poter ricondividere sul social e diffondere nella community. E quindi abbiamo, diciamo sì, migliorato la comunicazione, i risultati della pagina grazie semplicemente alla community che eravamo riusciti a creare, al rapporto eravamo riusciti a creare con gli appassionati di fotografia. Come abbiamo visto, scusate, vengo una domanda, l'autore della foto mi chiede Maria Pallomeni, l'autore della foto potrebbe essere chiedere dei diritti autori se la sua foto viene riutilizzata? No, perché su Instagram se viene taggato e pubblichi la foto, citando chiaramente l'autore della foto con il suo profilo Instagram, è un'attività normalissima, prevista dal social. Io posso condividere un contenuto. Quindi non ci sono assolutamente problemi di questo tipo. Chiaramente se la foto che vado a condividere è stata pubblicata su Instagram. Ed è chiaramente si tratta, magari l'ha pubblicata, un profilo che non è un profilo privato, insomma. Raggiungere altre fasce di pubblico. Questo lo so vuol dire, abbiamo visto che Instagram ha un pubblico di under 34, soprattutto per due terzi, anche se piano piano sta un po' invecchiando anche il pubblico di Instagram banalmente, perché anche il social ha compiuto adesso dieci anni, quindi tanti sono cresciuti con Instagram, però è un pubblico che la PIA spesso ha più difficoltà a raggiungere, con cui ha ancora più difficoltà a interfacciarsi. Ecco, farsi vedere, con un linguaggio semplice, fatto di immagini, lo stesso che abbiamo utilizzato dagli under 34, può essere utile non solo a raggiungere una fascia diversa del pubblico, ma anche a interessarli e a comunicarci. Allora, Maria Silvia Como mi chiede ma per la copartecipazione ai nostri secolti, ad esempio storie per un giorno fatte da, occorre dare semplicemente l'accesso al profilo o c'è una procedura specifica? No, può bastare dare l'accesso al profilo. Poi si può valutare chiaramente se si fa un'azione del genere di creare una policy della nostra campagna in cui si stabiliscono delle regole. Però diciamo questo è più, andiamo più sul campo delle policy per la gestione dei social. Ci daremo delle regole chiaramente condivise con chi parteciperà alla gestione dell'account. Anche se si tratta di un'opera d'arte chiede Laura Bergamino immagino si riferisca alla ripubblicazione di un'immagine di un utente Instagram e Lucia Maionchi mi chiede sono tutte le libri per l'utilizzo. Allora, se io vado a ripubblicare chiaramente se sono un museo e viene fatto uno scat all'interno del mio museo lo ripubbio quindi non vedo il problema dell'opera d'arte non è che vado a ripubblicare uno scatto della gioconda all'Uvr e si si possono tranquillamente utilizzare perché la piattaforma quando io mi scrivo a Instagram prevede che se io ho dei contenuti questi possono essere condivisi da altri utenti quindi come dire ho accettato questa regola e andiamo a vederli un po' i vari account che si possono creare perché chiaramente per partire dobbiamo innanzitutto scegliere che tipo di presenza vogliamo avere ci sono tre tipi di account su Instagram l'account personale quella base si può pubblicare foto e video seguire ed essere seguiti facciamo la nostra bio ci si può scambiare commenti e messaggi l'account può essere pubblico o privato nel senso che chiunque mi trova su Instagram può andare a vedere tutte le mie foto se è pubblico oppure privato per cui soltanto le persone in autorizzo possono vedere ciò che è pubblico diciamo è in parte molto simile al profilo personale su Facebook non ci sono particolari differenze mi fermo un sonde rispondo anche a Demeliana Avellino per le immagini divise da siti giornalistici online se le ha messe se sono state messe su Instagram io faccio il repost citando la fonte non ho non ho problemi a meno che perché se invece vado a prendere dal sito della testata online e utilizzo le immagini per inserirla nel mio profilo Instagram quella è un altro tipo di attività quindi per ritorno all'account personale questa è la base non decido di mi piace Instagram sono un appassionato di foto decido di aprire un account personale e comincio ad utilizzare il social come tutti gli altri social decido se le mie foto possono essere viste da tutti oppure no diciamo chiaramente non è questo l'esempio più calzante per una pubblica amministrazione che invece per cui è più adatto senza altro un account business l'account business al di là del nome è molto simile a una pagina Facebook diciamo la differenza tra l'account personale e l'account business per diciamo renderla molto più semplice tra il profilo personale e la pagina su Facebook diciamo è un utilizzo molto più diffuso sono nato nel 2016 l'obiettivo era veramente di aprire il social network alle aziende perché portassero pubblicità e quindi introiti alla società perché non dobbiamo mai dimenticare che senza altro il social network e in particolare Facebook ha rivoluzionato il nostro modo di comunicare con l'esterno non ha cambiato però quello che è il modello commerciale che si basa ancora in gran parte sulla pubblicità quindi attraverso l'account business si possono fare campagne di sponsorizzazioni avere anche l'insight così come succede nelle pagine si può fare una bio molto più accurata e cosa accade dice ma io ormai ho già aperto l'account della mia amministrazione l'ho aperto come account personale non c'è nessun problema si può sempre passare da account personale ad account business quindi se diciamo così avete un profilo personale valutate se è il caso di farlo diventare un account business business l'ultimo arrivato è l'account creator che è proprio di pochi mesi fa non di più di un anno fa che ha diciamo sì le stesse funzionalità dell'account business ma è pensato per i profili personali diciamo sì cosa ha fatto Instagram ha visto l'importanza dell'influencer nella piattaforma e gli ha creato degli account diciamo adatti a loro cioè quelli dove si può sviluppare al meglio la community e senza perdere diciamo l'idea di essere un profilo personale quindi una una persona allora andiamo a vedere diciamo cosa mi accade su se io apro Instagram ho preso un account qualunque allora io in alto ho queste tre tre icone con il più posso iniziare a pubblicare i miei contenuti il cuore sono le attività diciamo banalmente mi piace l'aeroplanino di carta è il direct ovvero le interazioni che ci sono state qui in alto ho subito le stories in questi riquadri e scusate assolutamente non sono riquadri ma sono dei tondi dei cerchi ho le le stories perché sono lassù perché le stories sono diciamo il contenuto che funziona meglio su Instagram e quindi cosa fa la piattaforma me le mette subito in alto e io vedo innanzitutto scusate torno un attimo indietro Letizia fa la scogliere se il profilo creator serve sempre alle aziende il profilo creator è per gli influencer non è per le aziende per le aziende c'è il profilo business perché per attivare il profilo creator diciamo bisogna rispettare certe certe regole quindi diciamo per un'azienda è consigliabile il profilo business allora torno qua in alto vediamo le stories io le posso scorrere semplicemente passando il il dito sul telefono qui ho la mia diciamo la mia storia e a seguire quelle delle le varie account è possibile il passaggio scusate torno ancora indietro poi magari risponderò dopo ad eventuali domande sugli account è possibile il passaggio ad un account business ad un account creator sì è possibile ma magari poi nelle risposte scritte vi inserisco la procedura per diciamo se aprire un account creator che non è diciamo così banale ora magari siccome secondo me il profilo più adatto a una problematizzazione profilo business mi concentro mi concentro su questo quindi in alto abbiamo diciamo le stories che sono il contenuto che funziona meglio poi lo vedremo più specificamente poi abbiamo diciamo i post delle persone che seguiamo ed in basso abbiamo una serie di icone dove abbiamo il tasto on per andare chiaramente della mia home page il tasto cerca per cercare dei contenuti su instagram questo è un tasto nuovo sono i reel la nuova forma di linguaggio e comunicazione che sto utilizzando è entrata diciamo da pochissimo su instagram i brevi video che dicevo prima di pochi secondi la parte shopping e poi il tasto per andare al mio profilo diciamo quando si arriva su instagram il contenuto chiaramente è subito in bella evidenza sia come stories che sono subito in alto chiaramente io vedrò le stories delle pagine o dei profili che seguo e i post fatti da la mia community allora se io vado a vedere poi il mio profilo invece andiamo a vedere come cosa trovo allora in questo caso innanzitutto è un profilo verificato sapete l'importanza di avere sempre la di riuscire ad avere la spunta blu ed essere un profilo affidabile per gli utenti che ci si trovano a interfacciarsi come per facebook anche su instagram è possibile ottenere questo page che vuol dire certifica che sono io sono veramente in questo caso l'associazione più a social ma posso essere il comune di trieste piuttosto di quello di milano piuttosto della regione abruzzo e via e via e questo è molto importante subito abbiamo poi la nostra storia in evidenza quella che siamo andati a creare in quel giorno i numeri del nostro account e la bio questo è il tasto per le storie in evidenza e questo invece è il tasto per i video per vedere diciamo i video quelli a un bene un tempo era la instagram tv se siete interessati a come si ottiene il profilo verificato infatti andiamo subito a vederlo e la slide successiva è molto semplice diciamo se io sono su instagram clicco sulle sulle tre linee in alto a destra mi apre questa schermata vado in impostazioni ok questa è la schermata in cui io posso fare tutta una serie di attività su instagram vado in impostazioni e qui mi da tutta un'altra serie di informazioni tra queste scelgo account una volta entrato nel cliccato su account mi da tutta una serie di opzioni e io vado a richiedi verifica una volta cliccato su richiedi verifica mi apre diciamo un un box dove io devo inserire tutta una serie di dati compreso un documento di identità e avviare la procedura per ottenere la spunta blu sul sul mio account sul mio account instagram quindi è tutto chiaro le tre linee in alto a destra impostazioni account richiedi verifica e lì si arriva nella procedura guidata maria ristira ferentini buongiorno mi scusi come si può ottenere il profilo ho inviato anche una bolletta a luce del comune ma non mi hanno proprio considerata in questo caso magari il consiglio di insistere può darsi che ci sia un ritardo da parte della piattaforma magari ripresentare la richiesta nuovamente e sperare che magari questa volta vada a buon fine come si diceva il fabbricicolini ci diceva come si è verificato l'abbiamo visto i consigli per Valentina Rivoldi invece ci chiede consigli proprio efficaci magari ecco dopo faccio degli esempi lo vediamo successivamente eccolo qua allora io ho preso il profilo l'account del comune di Trieste ne ho preso uno perché sono veramente tantissimi gli account delle amministrazioni e devo essere sincero sono moltissimi sono quelli fatti bene ne ho preso uno diciamo uno dei profili maggior successo è storicamente il presente da tanti anni sono su Instagram allora cosa qual è la presenza del comune di Trieste innanzitutto sono riusciti a far verificare il profilo e quindi alla spunta blu quindi sappiamo che questo è il profilo ufficiale del comune di Trieste velo mi rafforza questo fatto che sia il profilo ufficiale lo stemma dell'amministrazione che si usa un fotoprofilo ed è sempre un consiglio per tutti i social network vale questo cioè inserire come fotoprofilo lo stemma della mia della mia amministrazione sotto l'immagine sotto l'immagine profilo c'è quella che si chiama la bio che cosa mi dice il comune di Trieste che ha scelto realmente un nome che sia anche questo facilmente riconoscibile ovvero comune di Trieste non sbaglio non è che vado a inventarmi chissà quale nome ma mi dice subito che è l'account ufficiale dell'amministrazione mi inserisce anche due hashtag che sono diciamo quelli più utilizzati dal comune su Instagram che sono MyTrieste cioè MyTrieste e Finestre su Trieste Finestre su Trieste è un esempio di quello che dicevo prima cioè della collaborazione con la community presente sul territorio nel rilanciare delle immagini belle degli angoli magari anche meno conosciuti della città subito dopo e cosa fa? pubblica la social media policy il link alla social media policy altra cosa che su tutti i social conviene fare quindi diamo subito all'utente che arriva spieghiamo subito quali sono le regole di ingaggio mettendo il link alla policy e poi mi da anche chiaramente l'indirizzo eventualmente io posso cliccare e aprirlo sulle mappe per raggiungere l'amministrazione comunale come si vede questo profilo ha un buon successo che abbia 22.300 follower pubblica con continuità perché comunque sono quasi 4.200 i post e quindi come dire lui viene utilizzato come un vero e proprio strumento di comunicazione a disposizione dell'amministrazione che va ad affiancarsi agli strumenti tradizionali e agli altri social network magari adesso vado avanti perché il tempo sta scorrendo e non vorrei poi andare in difficoltà sulla tempista rispondo alle domande poi in fondo magari se volendo ci possiamo trattenere anche qualcosa in più che cosa fa poi nella costituzione del Comune di Trieste della sua home petti delle storie fissate ovvero dei contenuti creati come stories che però sono subito consultabili in home page ad esempio qui ha inserito Telegram perché perché sfrutta la cross-medialità dei social network ovvero ho aperto un canale Telegram che dà delle informazioni per promuoverlo per promuoverlo utilizzo la anche la la funzionalità insomma la vetrina che mi offre Instagram come? inserendo una storia perché? perché come abbiamo detto prima le storie sono il contenuto che funziona maggiormente su questo social network diciamo in generale su tutti i social le storie ormai tendono ad essere un un tipo di contenuto ma non soltanto un contenuto ormai le storie sono un vero e proprio tipo di linguaggio non immaginiamoci soltanto eh come eh un eh un contenuto particolare fatto magari più leggero va a scomparsa ma un vero e proprio eh linguaggio soprattutto dei più giovani ma che sta piano piano arrivando anche a a fasce di eh popolazioni eh meno giovani quindi proseguiamo nel vedere come è fatto diciamo sì l'account del comune di Trieste andando a vedere anche cosa pubblica però qui spero che riusciate a vederla ecco quando vedete qua in basso questa diciamo eh citazione nella foto vuol dire che è il riposto di un contenuto in questo modo è stato diciamo ripostato il contenuto di un utente e qui viene citata la fonte quindi questa è una condivisione di contenuti se invece vediamo eh sopra la foto diciamo questo quadratino soprapposto vuol dire che è un post multiple non c'è soltanto la foto che andiamo a eh a vedere qui nel home page scorrendo diciamo contenuti ma se andiamo a cliccarci ne vedremo ne vedremo anche altre se invece ci appare diciamo questo segno di spunta eh con una specie di possiamo chiamarlo fulmine insomma nel all'interno del del riquadro vuol dire si tratta di un video pubblicato eh sulla eh tra i contenuti del del mio account quindi quindi eh ora in questo caso non c'è un eh un reels pubblicato tra i contenuti qua ma avrebbe diciamo il segno di spunta di un eh di un video allora eh fondamentale della comunicazione su su Instagram è chiaramente l'utilizzo degli hashtag ricordiamoci che massimo sono 30 che devono essere pertinenti e coerenti al mio messaggio abbiamo visto eh quando andavamo a vedere le curiosità eh di Instagram quali sono gli hashtag più diffusi ecco non è che io prendo gli hashtag che stanno andando per la maggiore eh in quel momento e li metto sotto un eh un'informazione che non ha niente a che vedere con eh con gli hashtag cercherò di come dire eh trovare il punto d'incontro tra l'utilizzo di hashtag comunque molto diffusi e che possono portare diciamo sia ad ampliare il mio pubblico con diciamo quelli pertinenti al contenuto che ho pubblicato all'immagine che ho pubblicato eh non sempre poi c'è bisogno di mettere 30 hashtag questo diciamo è il massimo consentito quando stiamo diciamo tra i 5 e i 10 siamo già comunque possiamo già aver fatto bene la nostra eh la nostra comunicazione anche perché siccome devono essere pertinenti e coerenti trovarne 30 chiaramente eh eh è eh è più difficile quindi cerchiamo comunque di misurarli in maniera in maniera corretta e andiamo a vedere anche in questo caso diciamo io ormai sono rimasto sul comune di Trieste come costruisce un post allora questa è una foto eh sono molto bella di grande impatto emozionale su Trieste che mi svela diciamo le bellezze della città e quindi faccio promozione della mia città eh la faccio con uno scatto che non è mio proprio dell'amministrazione ma mi è stato fornito eh da e lo cito Adriano eh Nicitra molto probabilmente questo scatto quindi non è stato pubblicato su Facebook e quindi ripostato ma è stato come dire eh dato all'amministrazione in altri in altri modi e comunque viene eh pubblicato chiaramente viene eh citata la fonte il testo è molto semplice una bella foto scattata domenica sul canal grande un testo brevissimo e poi come vediamo ci sono eh otto hashtag alcuni sono diciamo eh su Trieste ovvero Trieste e canal grande finestre su Trieste che è l'hashtag utilizzato per diciamo questa campagna fatta insieme agli utenti su gli angoli più belli di Trieste le più belle immagini della città a cui poi vanno diciamo del accompagnati anche degli hashtag meno eh non collegati a Trieste cioè da da domenica a nuvole fino diciamo a hashtag diffusi su Instagram come eh no filter o senza filtri quindi cosa hanno fatto hanno comunque una bella immagine un testo molto breve eh e un utilizzo degli hashtag ponderato cioè una parte di hashtag miei diciamo di Trieste dell'amministrazione una parte di hashtag diffusi sulla piattaforma una parte diciamo di eh eh hashtag come nuvole che magari è diciamo un hashtag comunque diffuso eh che mi può portare a un pubblico diverso da quello che segue eh il mio eh la mia pagina allora e proviamo quindi a vedere come si pubblicano i contenuti su eh su Instagram eh abbiamo visto che basta cliccare sul più per iniziare la pubblicazione allora io mi troverò questa schermata ok eh in basso switchando diciamo posso decidere che tipo di contenuto voglio pubblicare ok un post una storia un reel un video in diretta ok quindi scorrendo qua intanto decido il tipo di contenuto posso decidere le impostazioni del contenuto chi può vederlo tutta la serie di di impostazioni eh in questo caso io diciamo sì voglio pubblicare una storia e qui avrò a sinistra eh la cosa dice invece il tipo di contenuto della storia da eh inserire un elemento testuale eh a eh utilizzare la funzione boomerang insomma tutta una serie di funzionalità per eh per la mia per la mia storia fino a quelli che si possono definire gli effetti speciali cioè in basso eh scorrendo posso iniziare a far apparire eh fuori eh lampi fulmini a diventare un cartone animale insomma a fare tutta una serie di eh azioni divertenti per arricchire il mio contenuto quindi iniziare a pubblicare su Instagram è molto semplice volendo io posso anche scegliere di utilizzare un contenuto che ho già pronto e cliccando qua riesco a eh ad utilizzare magari il il mio archivio di di immagini quindi andiamo a vedere le stories che diciamo sono una delle modalità più utilizzate eh eh del eh su Instagram eh a giugno 2018 eh quindi si parla di due anni fa erano già 400 milioni gli utenti che utilizzavano le storie che sono eh senz'altro notevolmente aumentate le storie sono cresciute tantissimo negli ultimi tre anni veramente con eh dei pitti eh altissimi se chi utilizza Instagram l'ha visto nella quotidianità eh oggi abbiamo veramente una se andiamo a vedere le stories create da eh dalle persone che seguiamo ne troviamo veramente un eh tantissime prima magari a un certo punto si fermavano oggi non finisci più se puoi andare a vederti le stories del eh del dello community e sicuramente funzionano bene tra l'altro le stories non sono più soltanto su Instagram ma sono anche sugli altri social della famiglia Facebook quindi come dicevo prima non si tratta soltanto di un contenuto adatto diciamo così da utilizzare per Instagram ma di un vero e proprio modo di un vero e proprio linguaggio con cui eh interfacciarsi eh sulla eh con le persone che sono presenti sulle varie piattaforme social un report di blog metter eh diceva che il 32 diciamo un italiano su tre preferisce guardare le stories anziché leggere un post nella fascia tra 15 e 24 anni più di uno su due preferisce le stories al post tradizionale questo cosa significa che nella mia presenza social e ancora di più su Instagram se voglio fare una comunicazione efficace dovrò pensare che parte della comunicazione dovrà viaggiare attraverso questa modalità ovvero quella delle storie che quindi non sono più soltanto fare uno scatto aggiungere uno sticker o eh una qualche scritta divertente oppure una corona o il o il rospo piuttosto che altre altre immagini che si possono utilizzare con la piattaforma ma dovrò creare contenuti di qualità perché non sono più soltanto un contenuto immediato a scadenza devo anche sempre pormi il problema che nelle stories il contenuto deve essere facilmente fruibile molto velocemente devo capire il messaggio che mi stai mandando a volte ad esempio vedo dei il delle stories delle vecchie locandine di appuntamenti in biblioteca piuttosto che a teatro dove sono scritte tantissime informazioni quando dove installando relatori di cosa si parlerà prese adattate magari nel formato da bene e meglio al formato stories e pubblicate su instagram ecco non è senz'altro un contenuto che diciamo si è così efficace su questa piattaforma in generale per comunicare attraverso le stories dobbiamo pensare in verticale quando creiamo dei contenuti questo è fondamentale perché siamo abituati anche a fare un video o una foto in orizzontale se vogliamo pensare di utilizzare la modalità stories dobbiamo invece orientare il nostro smartphone in modo verticale se ne facciamo un uso diciamo anche costante possiamo pensare anche di creare diciamo delle copertine per fare delle vere e proprie campagne mini campagne di comunicazione oggi parliamo degli angoli più belli di Trieste allora metterò una copertina in cui oggi la nostra storia si è dedicata agli angoli più belli di Trieste quindi poi seguirà tutta una serie di immagini o video e magari la come dire in fondo metteremo anche una una chiusura accompagniamo l'utente nella via via take dopo take senza esagerare non pensiamo che costruire una storia con decine e decine di take ne basta di solito stare sotto i 10 è già più che abbondante insomma la ricerca di qualche anno fa diceva che il numero di take consigliato era 7 però lì molto va anche in base a poi la lettura dei dati a vedere se le visualizzazioni quanto sono carate magari dal primo all'ultimo contenuto che ho inserito per fare diciamo dei contenuti di qualità per per le stories ci sono anche delle piattaforme online che ti permettono di come dire migliorare la parte visual della mia comunicazione ora bisogna sempre avere ben chiaro che le piattaforme che ti permettono di fare grafica di migliorare le immagini non si sostituiscono mai al lavoro dei professionisti questo deve essere chiaro però se nella mia amministrazione non ho purtroppo dei professionisti nel nel visual posso comunque avere delle risorse online che mi sono utili per per migliorare la mia comunicazione scusate rispondo soltanto a Sara Zanelli che mi chiede cos'è un take quando è diciamo una parte della della storia le storie sono costruite da un'immagine poi un'altra immagine poi un'altra immagine poi un video ecco ognuno di questi si chiama si chiama take scusate ma altrimenti non era diciamo non era chiaro il il la spiegazione quindi ora in rapida tanto poi le slide le potrete avere in rapida successo e vi indicherò alcune delle piattaforme che io utilizzo che mi sento comunque di poter consigliare per esempio tra i tool di grafica Canva è quello più diffuso ormai diciamo è un quasi di uso quotidiano ha una versione free e una serie di versioni a pagamento però ecco ti dà già anche la versione free ti dà già una serie di funzionalità molto utili come un archivio di immagini libere la possibilità comunque di costruire dei contenuti di qualità anche a livello di visual altri possono essere design ball designer tra i nuovi snappa e pix teller insomma ce ne sono tanti io solitamente utilizzo soprattutto Canva però nessuno vieta di provarne anche altri o comunque se avete delle altre piattaforme di grafica magari valide che utilizzate potete anche segnare nella chat e condividerle con i colleghi ecco perché poi fondamentalmente in questo universo dei tool online che vengono fuori molto spesso di nuovi ci sono tantissime risorse che ognuno magari si come dire ne utilizza una piuttosto che un'altra tra le piattaforme di video animazione invece io ad esempio utilizzo Vatoon anche in questo caso c'è una versione free e una versione a pagamento la versione free ha meno funzionalità e il video terrà il marchio di fabbrica di Vatoon ma comunque ti permette di fare dei video animazioni in maniera molto semplice perché come Canva per la grazia ti dà magari dei modelli già pronti dove devo soltanto pensare di cambiare la foto piuttosto che il testo anche Vatoon dà questa opportunità però per i video in animazione quindi volendo posso crearmi contenuti visual di qualità a costo zero attraverso questa piattaforma è chiaro che se voglio come dire avere diciamo più contenuti se ne fanno un utilizzo veramente costante posso valutare a quel punto di fare un abbonamento sì ce ne sono diciamo ce ne sono numerose di piattaforme un'altra vedevo lo scriveva anche Sabrina Belletta Fontana animaker esatto un'altra piattaforma che funziona per per i video molto bene e anche in questo caso il consiglio è quello di sperimentare provare e cercare magari quella che è più adatta alle nostre esigenze ci sono anche delle applicazioni per telefono utili magari per chiare le stories per abbellire e migliorare le nostre stories anche in questo caso vi faccio vedere alcune delle applicazioni che utilizzo ho utilizzato io ma ce ne sono veramente in una quantità molto grande in comunque store sia per iOS che per Android si tratta di vedere quella che poi magari è più adatta alle mie esigenze sono quelle che a me piacciono e che ho utilizzato nel corso del tempo in queste unfold che ha delle connici molto eleganti della qualità secondo me al contenuto che andiamo poi a pubblicare sulla storia Snapseed invece è un'applicazione di photo editing che ha numerose funzionalità veramente riesce a migliorare notevolmente dei contenuti adesso ve lo faccio vedere questa è una foto che ho scattato io insomma al di là del diciamo che non è una foto particolarmente bella non è paragonabile a quella che abbiamo visto prima a Trieste però ecco tra l'originale come poi riesco a migliorarla c'è una bella differenza e questo in pochi touch sul telefono attraverso Snapseed un'altra applicazione di photo editing è USCO diciamo rispetto alla precedente è è un po' più complicata da utilizzare ecco se non si hanno delle buone conoscenze nel campo del photo editing consiglio di partire comunque con Snapseed anche in questo caso se avete comunque delle ulteriori applicazioni scrivetele pure in chat che magari sono utili anche per scambiarsi informazioni un'altra a me piace è Storylux abbiamo dei filtri e delle codici per immagine molto carine ecco vedete questa è la stessa foto creata a Stories come con con questa applicazione voglio dire magari anche per variare un po' la nostra la nostra comunicazione anche attraverso le Stories e magari migliorarla ora io qui vi ho veramente fatto vedere velocemente alcune applicazioni veramente poi ce ne sono veramente tante quindi andate il consiglio è di provare sperimentare cercare nei vari store sia Android che iOS quella che magari è più data o che è l'ultima uscita e magari funziona benissimo e vi da veramente una qualità in più ce ne sono talmente tante che dare un panorama esaustivo di quelle che ci sono ci richiederebbe insomma veramente tantissimo tempo mi fa piacere e vedo che in chat vi state scambiando informazioni ecco anche per me può essere interessante per scoprire nuove applicazioni andiamo volevo dedicare poi prima della parte delle domande una parte di questo webinar a Reels che è diciamo l'ultima innovazione inserita da Instagram come dicevo sono dei brevissimi video dove si può aggiungere una musica quindi video di 15-30 secondi in cui poi io ammonto un sottofondo musicale detta così vi ricorda un altro social network diciamo in gran voga in questi ultimi tempi vediamo se esatto vedo è abbastanza semplice una domanda e avete risposto subito immediatamente in maniera esatta esattamente è la risposta di Instagram a TikTok perché? perché TikTok è la piattaforma che sta crescendo maggiormente nel panorama social e soprattutto va a interessare il pubblico dei più giovani quindi i consumatori del futuro in questo senso che cosa ha fatto Instagram? ha diciamo si mutuato le funzionalità in voga su TikTok e le ha portate sulla sua piattaforma non è una novità perché anche le stories non nascono su Instagram ma nascono su Snapchat quindi in quel caso vengono presi quel tipo di contenuto che stava diventando sempre più stava prendendo sempre più piede tra i più giovani e inserito su Instagram in questo caso il contenuto diciamo che funziona più è quello su TikTok io provo a così a lanciarlo anche sulla mia piattaforma non sempre è andata bene questi esperimenti per Instagram non pensiamo che tutte le volte abbia avuto successo ad esempio Instagram TV che doveva essere a risposta in qualche modo a YouTube non è non ha diciamo avuto il successo che si aspettavano a Facebook però in questo caso che cosa si fa? si va comunque a cercare di interessare i giovanissimi che saranno quelli che in teoria dovrebbero continuare a stare sui social nei prossimi 10, 20, 30 anni e quindi li porto subito nella mia nel mio sistema e che sono anche quelli magari più interessanti per le aziende perché sono quelli più influenzabili e quindi che a breve diventeranno i consumatori a cui posso vendere non dimentiamoci mai chiaramente le logiche sono poi alla fine quelle del mercato allora intanto una pubblica amministrazione può essere interessata a questa funzionalità di Instagram secondo me sì abbiamo visto che già ci sono i primi esempi di PA su TikTok e siccome il linguaggio è il medesimo io credo che Reels possa essere uno strumento ulteriore per migliorare e accrescere la comunicazione l'abbiamo visto prima io vado diciamo così vado a creare il mio contenuto e vi appare questo ok qui ho una serie di icone sono quelle la musica dove si può selezionare una traccia all'interno della libreria di Instagram da inserire a corredo del mio video o anche sfruttare le tracce audio create da altri utenti all'interno dei loro Reels quindi posso utilizzare la libreria di Instagram ma anche diciamo quello che viene creato dalla mia community qui ho diciamo un numero in questo caso è 1 per che vuol dire la velocità normale ma posso anche registrare in slow motion o a velocità maggiore attraverso diciamo così lo smile possono inserire vari effetti che sono diciamo quelli per divertirsi più o meno come facciamo già con le stories qui abbiamo il timer cioè recitiamo la lunghezza del video che andiamo a registrare e questo invece è una funzione allinea allinea che per chi utilizza TikTok probabilmente già la conosce è la funzione che permette diciamo così di far ripartire un video nel subito dopo l'altro per chi si diverte nelle realizzazioni di questi video ad esempio non so se vi capita mai di vederli magari più su TikTok attualmente che su Reels ma vedete magari che chi si registra il video si cambia d'abito e ti crea l'effetto come se se lo cambiassi all'istante ecco e viene realizzata attraverso la funzione allinea finisco il video e lo riprendo esattamente nel punto in cui l'avevo lasciato senza alcuna pausa pare ma non si è chiaramente non c'è certezza l'algoritmo alla base di Reels dovrebbe essere lo stesso di TikTok quindi con un incrocio dei dati per gusti e geolocalizzazione in base a quello far vedere più o meno i contenuti diciamo quindi che ad ora questa funzionalità ha avuto un grosso successo è stata testata in alcuni paesi tra cui l'India solo dopo che diciamo se TikTok non era più utilizzabile in India è stato rilasciato a Reels ha avuto il download di Instagram sono cresciuti di un buon numero siamo intorno al 12% lo stesso anche in Brasile dove c'è stato comunque un aumento molto veloce degli utenti degli utenti Instagram dopo il rilascio della fase di testing quindi dobbiamo vuol dire se andiamo ad avere una presenza su questa piattaforma dobbiamo iniziare a pensare chiaramente anche a sfruttare questa opportunità perché i primi brand ad esempio ci sono già presenti che hanno avuto un grande successo i reels di Louis Vuitton ad esempio in un marchio molto famoso ha avuto milioni di visualizzazioni ora è chiaro la PA non è un brand di moda non deve rendere niente non deve farti il problema di quante visualizzazioni magari se ho migliaia di visualizzazioni o circa di visualizzazioni che ho contenuto ma evidente l'obiettivo deve essere quello comunque di informare fasce sempre più ampia della popolazione e attraverso questo strumento lo possiamo fare l'abbiamo visto diciamo con TikTok che ha avuto una comunicazione magari in sanità dedicata ai giovanissimi sull'utilizzo della mascherina su le regole in caso di pandemia ecco perché perché su TikTok e adesso per me mutualmente su Reels ci sarà un pubblico di giovanissimi ancora più difficile solitamente da raggiungere ma per raggiungerli devo parlare la loro stessa lingua vi segnalo anche se iniziate come dire a realizzare questi Reels tre applicazioni che a mio parere possono ulteriormente migliorare la qualità del contenuto tra queste c'è FanAnimate che ha un sacco di effetti filtri transizioni diciamo si è un rende ancora più divertente e accattivante il brevissimo video di pochi secondi un'altra che diciamo si sta diffondendo e Zoomerang che diciamo è un editor alternativo a quello che si può trovare su una sulle piattaforme in questo caso sto parlando di Reels ma vale chiaramente anche per per TikTok infine segnalo l'IKE che è diciamo si ha tra le varie diciamo si ha tra i vari effetti ha funzionano molto bene gli effetti cinema i cambi di di volume cambi di scena insomma per il montaggio è molto semplice da usare ma di grande effetto queste applicazioni diciamo l'IKE è gratis sia per iPhone che per Android FanAnimate Zoomerang sono per le piattaforme ma diciamo hanno prevedono anche delle parti a pagamento quindi diciamo già che siamo a lanciarsi nell'utilizzo dei Reels valutiamo anche se come dire valutare insomma questo tipo di applicazioni che migliorano ulteriormente il nostro la nostra qualità allora importante è sempre anche monitorare il nostro lavoro ci sono gli insight chiaramente su Instagram che mi danno tutta una serie di informazioni e anche Reels hanno ti danno già delle informazioni sulle visualizzazioni like e via dicendo quindi già la piattaforma mi fornisce dei dati che io posso andare ad analizzare e vedere se sto lavorando con successo o meno ma ci sono anche degli strumenti online per vedere un po' il lavoro uno di questi è flanks.com che nell'home page ha questa mascherina dove ha un calcolatore di engagement dei profili delle page dei profili Instagram basta inserire diciamo il nuovo utente è gratuito mi sembra se ne può calcolare fino a tre al giorno dopodiché bisogna prendere una versione a pagamento non è uno strumento molto sofisticato certo non si tratta di un software di analisi a pagamento ma per vedere un po' come sto andando e poi magari stanno andando anche altre realtà del territorio per individuare e magari coinvolgere per far crescere la mia la mia presenza su Instagram perché posso vedere che il museo che magari è su Instagram ha dei contenuti di tanti contenuti da pubblicare ed ha un grande successo posso valutare magari di vedere fare delle azioni non divise per aiutarmi a far crescere i numeri e la community che segue il mio profilo Instagram o per la pubblicazione sulla sul mio profilo possiamo utilizzare anche creator studio di Facebook è una diciamo sì la la piattaforma messa a disposizione metal social per tutta una serie di azioni sul su Facebook e adesso adesso da un po' di tempo a questa parte anche su Instagram per chi ha già collegato diciamo creator studio alla propria pagina Facebook ed ha collegato anche una serie ha collegato anche il profilo Instagram in alto trova o l'icona di Facebook o quella di Instagram cliccando banalmente sull'una o sull'altra si switcha da un social all'altro e cosa si può fare attraverso creator beh una delle funzioni più interessanti è quella di poter programmare il post che andremo a pubblicare e questo è un primo vantaggio il nell'utilizzo diciamo di questa piattaforma per la gestione del mio account Instagram qui poi avrò come succede anche per Facebook la libreria di contenuti dove vedrò quali sono i post pubblicati tutto quello e tutti i contenuti che io utilizzo sulla piattaforma a sinistra invece avrò qui innanzitutto per creare il contenuto può essere una storia insomma i vari contenuti possibili e poi avrò anche i dati statistici che sono comunque sempre importanti per valutare il lavoro che sto svolgendo come dicevo prima quindi attraverso una piattaforma free che è creator studio di Facebook anche abbastanza semplice da utilizzare posso come dire andare ad un uso più professionale della mia presenza su Instagram e come dire sviluppare il mio piano editoriale per quella piattaforma ad esempio quindi consiglio mio anche in questo caso è collegare creator studio all'account Instagram e cominciare ad utilizzarlo se non per la pubblicazione almeno per vedere magari i dati statistici e iniziare quindi ad avere un utilizzo più professionale non è necessario avere la pagina Facebook per collegare creator studio a Instagram non è necessario collegare una non è necessario per la pagina Facebook collegare Instagram a creator studio se volete poi magari tra le risposte alle domande per scritto vi aggiungerò una domanda è una risposta mia con la procedura per farlo siccome il tempo è veramente poco io proverei a rispondere a qualche domanda magari quelle più semplici visto che sono tante e poi le altre risponderemo per diciamo per per scritto allora ripartiamo dal badge Pierpaolo Mancuso chiede per la chi richiede la verifica Tiziana Salvati prontamente pubblico quale documento va caricato e inviato allora diciamo che la richiesta è quella di accertarsi che l'account sia un account unico gestito in un certo modo quindi dobbiamo fornire quel tipo di informazioni in teoria la richiesta della verifica potrebbe essere il rappresentante legale dell'ente quindi lì dipende anche dal tipo di documentazione che si allega la collega prima ha scritto una bolletta della luce sì perché tra le varie richieste che può fare facebook per la verifica richiede magari un'utenza intestata alla società all'ente o altro che per cui si richiede la verifica consiglio mio è provare ad attivare la procedura e come dire se non dovesse andare a buon fine una prima volta comunque riprovare personalmente mi è successo di richiesta di di page non andate a buon fine magari al primo tentativo ma successivamente accettate giorgio clara chiede scusate forse l'avete detto all'inizio ma non ho capito cosa sia una bio e beh la bio sono le informazioni che mettiamo nella nostra home page social in cui diciamo chi siamo e cosa facciamo tutti i social network solitamente sotto la foto del profilo si può cioè si inseriscono le informazioni su chi sono e cosa faccio e consiglio mio sempre anche un link alla policy e cercare di inserire la bio diciamo al di là di quelle che sono le imposizioni del singolo social sulla lunghezza tenerla sempre breve chiara e facilmente riconoscibile noi link della bio costa servizio sono un certo numero di follower mi chiede sarà faccenda no i link della bio non richiedono un numero minimo di follower Maria Chiara di Tella alcuni comuni usano il link bio di Instagram quanto è consigliabile se ho un link lunghissimo allora accorciamolo però ecco se riesco ad avere allora io preferisco mettere l'home page del 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 dell'amministrazione ecco www comune di trieste punto it insomma se poi anche in quel caso il comune magari ha un indirizzo lunghissimo perché ci sono accade anche questo si può valutare di magari inserire uno short link però ecco io credo che si possa mettere in un page del comune post photo stories Sara Zanelli vedo che quasi mai usa la pubblicazione di più foto nello stesso post perché non è consigliabile ma allora lì dipende anche dalla quantità di contenuti che possiamo pubblicare non sempre magari ho tre belle foto da utilizzare e allora preferisco magari fare un post unico o anche in un evento magari se non ho una gallery da poter aggiornare preferisco magari pubblicare più contenuti e quindi più foto singole molto spesso è questo il motivo perché in realtà io ho visto che non è che hanno un numero di visualizzazioni post con più foto insomma possono funzionare bene come quelli a foto singole risolvere più una questione di contenuti a disposizione o di tempo di pubblicazione magari sto facendo un evento e poi più a via ciò che sta accadendo allora metto una foto invece di aspettare di averne 3-4 da utilizzare sono scelte ma non vedo grossa differenza come risultato abbiamo tre minuti vediamo se riuscire a rispondere ad altre domande quanto parlo con l'immagine e quelli di Riest molto funzionano senza contenuti istituzionali rispetto al post sono contenuti puramente istituzionali lì dipende decidiamo come utilizziamo il nostro account su Instagram se nella mia home page voglio utilizzare magari foto che siano molto emozionali per attirare fortemente l'attenzione e magari il contenuto istituzionale lo sterzo sulle stories abbiamo visto Trieste per esempio ha fatto questa scelta nella home page abbiamo tutte foto molto belle se andiamo a scorrere sono veramente foto molto belle anche i video comunque sono molto emozionali delle stories salvate a come prima stories Telegram che di certo non è un contenuto particolarmente emozionale se andiamo a vederlo ma mi dà delle informazioni su come iscrivermi a questo canale su quali saranno le informazioni in utero e quindi cosa faccio decide di utilizzare la parte diciamo di immagini belle per come dire subito avere la vetrina molto bella per l'utente che arriva e magari il contenuto più istituzionale lo distituzionalizza e lo rende magari anche più divertente e il linguaggio Instagram attraverso l'utilizzo delle storie Roberto a vento sta a studiare le motivazioni per cui le storie sono contenute più utilizzate rispetto a un normale post potrebbe in più la possibilità di controllare e visualizzare le stories cosa invece non è possibile per i post allora non è che sono contenute più utilizzate sono diciamo i contenuti che funzionano di più perché diciamo si tende più a guardare la storia piuttosto che andare a vedere i post pubblicati questo perché soprattutto per i giovanissimi è normale andare magari a vedere quel contenuto piuttosto che il post scritto la storia la ciclicola via via vado al text successivo me la guardo poi passo ad un'altra storia cioè che in qualche modo è una delle attività più semplici e portate avanti dai più giovani mi dispiace che il tempo sia finito e che sono rimaste tantissime domande a cui rispondo io passo la parola velocemente a Claudio vi ringrazio per l'attenzione spero che possa essere stato utile e passo la parola a Claudio grazie Claudia il microfono chiedo scusa grazie a tutti per aver seguito grazie Andrea per la tua relazione molto esaustiva vedo che ci sono molti messaggi soddisfatti in chat vi ricordo che gli appuntamenti vanno avanti fino a metà settembre quindi avremo ancora il 25 il 2 dicembre vi ho messo gli argomenti e i link in chat ve li rimetto con Palamara la settimana prossima e video a seguire quindi vi aspettiamo come sempre vi ricordo che per ogni webinar è necessario iscriversi entro le 18 del martedì precedente e gli appuntamenti sono sempre di mercoledì alla stessa ora tranne questa settimana che abbiamo fatto eccezione grazie a tutti a presto